L'altra sera, per provare un visore termico della Pulsar, sono andato sul fiume dopo cena. Ci troviamo sull'Appennino Emiliano, in un'area protetta. Ora, immaginate il mio stupore nel trovarmi davanti sul greto a circa 100 metri da me, questo branco di 6 lupi. È stata un'esperienza davvero molto emozionante. Certo, la qualità del video è pessima, ma non vi sfuggirà che verso la fine, forse anche a causa del fatto che il fiume era in piena, i 6 lupi si dirigono verso le stalle che ospitano vacche e cavalli. Spero che i cani da guardiania li abbiano convinti a non fare danni. Pare infatti che da quelle parti i lupi abbiano già avuto col bestiame incontri ravvicinati. Fin troppo, si narra, ma le foto della manza che sarebbe stata sbranata io non le ho viste. Grazie a tutti.